Non aveva riscosso neanche il favore del sindaco di Scafati, l'atto aziendale illustrato la scorsa settimana dal direttore generale della ASL Salerno ai 158 sindaci della provincia. A Liberti lo aveva bocciato in toto ed appellato come il libro dei desideri. Sull'ospedale di Scafati sono state dette cose meravigliose, scriveva Liberti, stratosferiche straordinarie. Nell'atto viene presentata una sanità che non è uguale per Scafati ma anche per Roccadaspide, Eboli, Agropoli, Polla, un atto che noi abbiamo soltanto guardato ma non potuto commentare. L'emergenza sarà potenziata, possiamo stare tranquilli, questo è quanto ci vogliono far intendere, ha continuato il primo cittadino scafatese. La verità è che è stato presentato lo stesso atto aziendale approvato dalla regione sette anni fa, esattamente il 16 gennaio 2017. La verità è che qualcuno ha traslato i 4,5 milioni di euro del 2023 per lavori di tipo strutturale, chiarendo l'ipotesi che l'ospedale non si aprirà neanche fra sei mesi. La verità è che quello presentato in provincia è un libro dei sogni, non c'è una sola data ma solo un faremo, attueremo, realizzeremo. Ma quando? La verità è che la presentazione sembrava più l'analisi del problema che la soluzione al problema, un continuo chiedere aiuto ai sindaci che invece chiedono aiuto a loro. La sanità è gestita dalla regione, il direttore generale è nominato dal presidente della regione, per cui quale mano chiede il direttore generale, magari per convincere il governatore a spendere il miliardo di euro che gli è stato trasferito dal governo per la sanità campana, per convincerlo a distribuirle su tanti ospedali e non a concentrare la maggior parte dei fondi soltanto sull'ospedale di Salerno. 400 milioni di euro per costruire un altro policlinico a Salerno da 700 posti letto, mentre si riducono alla canna del gas ospedali e servizi in tutto il salernitano con la scusa della carenza di medici. La verità, continua Liberti, è la situazione attuale dell'ospedale di Scafati. 24 posti letto, unico caso in Italia. Mentre a Nocera i pazienti giacciono su barelle appoggiate nei corridoi dei reparti. Dopo un anno e mezzo non è stato riaperto il laboratorio di analisi a Scafati, mentre si continua a pagare un fitto salato per le sofisticate apparecchiature abbandonate nei locali. Nel mentre decidono di farci avere anche una data di realizzazione di questo libro dei sogni, noi come gestiremo l'emergenza, la sanità territoriale, quali sono i tempi per una visita specialistica. Dopo otto anni di governo regionale non è possibile il silenzio su questi argomenti, è una questione di vita o di morte. Ai sindaci del salernitano mettiamo da parte i colori politici di Cialiberti, i nostri concittadini stanno morendo per mala sanità, così come attesta anche la Genas. Per questo il sindaco di Scafati non l'ha mandato a dire, ma ha chiesto immediato il commissariamento della sanità in campagna. ...quanti chilometri di distanza, ma ci troviamo a 40 minuti, insomma se ci mettiamo in macchina e vogliamo andare al primo ospedale...